in questa bellissima giornata di settembre si va per funghi il cielo non è tanto bello e speriamo non venga a piovere speriamo e speriamo speriamo che poi dicono che per andare a funghi bisogna alzarsi la mattina prestissimo ma non è sempre così io mi sono alzata stamattina alle 3 per andare a lavorare e sono arrivata qua cos'erano le lune e mezza più o meno e direi che il risultato è stato notevole perché ho già trovato più di una decina di funghi ed è un'oretta che sono nel bosco neanche guardate che bello questo col piccolino di fianco bellissimo stupendo è un'oretta che bello il bosco oggi molto generoso direi eh sì parecchio freschissimo freschissimo tra l'altro è un'oretta che bello questo è super profondo non voglio romperlo non voglio romperlo è super super profondo infatti era molto profondo infatti era molto profondo bello però e quello direi che è buono forse però non sono sicuro vediamo vediamo oh sì e come e come che è buono bello 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 ma vogliamo parlare di questi funghi ce ne sono un'infinità assomigliano al colore della mia macchina sono troppo carini comunque il bosco in questo periodo è proprio stupendo pieno 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 di vita oh la la ce n'è un altro anche qui avevo deciso di andare a casa perché ormai oggi ho dato però come si fa se si continuano a trovare delle cosine così belle come si fa andare a casa ciao belle bel patatone che meraviglia questi li adoro con questo bel gambone bellissimo ma non è finita qua qui poi c'è uno spettacolo ma che spettacolo che spettacolo ma sei bellissimo ma di più che bello questo favoloso vai vai vicino a tuo fratello che poi continuiamo la ricerca oggi tra l'altro tra l'altro oggi la giornata è anche un po' cupa sembrava dovesse piovere poi invece no è per fortuna prima di andare a casa diamo un'occhiata anche qua due belle meraviglie qua e poi intravedo una meraviglia anche qua hanno un colore che è proprio da dire prendimi e io ti prenderò andiamo a prendere anche gli altri due e l'ultima l'ultima boccina sembra una boccina eccola qua belli 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 un altro qua eccolo qua eccolo qua un po' mangiucchiato però è sempre apprezzabile si sono divertiti un po' mangiucchiarlo però è sempre un bel porcinello e qua ce n'è un altro e secondo me ce n'è pure un altro qua esatto eccolo qui con il gambetto lungo lungo io ogni volta che entro vedo un fungo non lo so mi commuovo si mi commuovo qualcuno riderà però però è così però è così però è così non lo so Grazie a tutti.